Juventus 2-1 Cagliari, le andremo a commentare in questo video Prima di tutto like, commenti, condivisione e campanellina Cose importantissime Ma che voi ci mettete poco per farle Quindi fatele, che vi costano poco E con 5 semplici clic e 5 semplici cose da fare Rimanete aggiornati sul canale a 360 gradi Quindi che aspettate fatelo Se volete ditemi la cosa qui sotto nei commenti Per chi ha visto la partita Se no commentate con cosa volete Ovviamente Giuventini, Cagliaritani e non Accettiamo l'opinione di tutti quanti E adesso io vado a dirvi la mia in maniera più sportiva Che mi viene Allora Juve Cagliari, andiamo ad analizzare un po' la partita Primo, secondo tempo, quello che è successo di tutto Allora, primo tempo Primo tempo Meglio il Cagliari Allora, nei primi 35 minuti Meglio il Cagliari Il Cagliari nei primi 35 minuti Molto meglio, quindi non ha Un Cagliari che non ha paura Questo sto parlando dei primi 35 minuti del primo tempo Il Cagliari non ha paura Va avanti, si può vedere con tre conclusioni Tra cui ricordiamo una di Dossena finita fuori di poco E un Dino di Zappa finito fuori di poco Primi 35 minuti del primo tempo Meglio il Cagliari Ultimi 10 minuti del primo tempo Più recupero Meglio la Juve Meglio la Juve Che crea di più E va molto e molto vicino al vantaggio Nel secondo tempo La Juve riprende come il finale del primo tempo Nel secondo tempo gioca molto meglio la Juve E trova meritatamente il vantaggio al sessantesimo Calcio d'angolo Scusate, punizione Kostic Palla in mezzo per Bremer Che colpisce di testa E fa 1-0 Arriva anche il 2-0 di Rugani Sull'altro calcio piazzato Colpisce di testa A 2-0 Sinceramente mi complimento anche con Rugani Perché da quando è stato impiegato con continuità La Juve sta facendo sempre molto molto bene E adesso questo ne la conferma Bel gol Veramente complimenti a Rugani 75esimo Il Cagliari Riapre Altro calcio piazzato Questa è la partita dei calci piazzati Praticamente Dossiera Colpo di testa Su Asi di Ghianto 2-1 Il Cagliari Allì ci prova Ma alla fine Almeno per ora Non sta riuscendo A sfondare il muro Juventino Che è tutto parcheggiato Là dietro Dunque la Juve è questa Calcio in angolo Colpi di testa E si vince così Praticamente Ma intanto Nonostante tutto Nonostante Comunque la Juve Ha giocato bene Ha meritato la vittoria Ha sofferto il giusto Ha meritato la vittoria Si trova prima a 29 punti Rattesi che giochino le altre domani E il Cagliari Si trova a 17esimo A più 1 Sulla zona salvezza Comunque Vi ripeto La vittoria della Juve Secondo me è meritata Comunque oggi nel secondo tempo Hanno meritato Hanno giocato di più Hanno meritato Il Cagliari si è visto solo nel finale Quando sta provando a recuperarla Ancora ora Onore al Cagliari Onore al Cagliari Che nel primo tempo Per gran parte Ha giocato meglio Quindi comunque Onore all'oro Onore all'oro Però la Juve Superiore E la vinta Comunque ragazzi Questa è la mia opinione Su Juve 2 Cagliari 1 Ditemi la cosa qui sotto In commento Ovviamente E lasciate Like commenti In descrizione Condivisione E campanellina Molto importanti Per il supporto Del canale Noi sul primo canale Oggi abbiamo finito Ci vediamo Dopo Sul secondo canale Con il post partita Di Real Madrid Valencia Quindi sul primo canale Abbiamo finito Ma sul secondo canale C'è il classico video Di giornata Quindi vi aspetto lì Ciao ragazzi Ditemi la vostra Juventini Cagliari Italia e non Vi aspetto Tutti quanti Ditemi la vostra Forza Grazie a tutti